L'intelligenza artificiale e i suoi utilizzi al centro di un interessante dibattito organizzato a Trivento. Andiamo a vedere. Un argomento di grande attualità, quello affrontato durante il convegno organizzato negli spazi esterni di Palazzo dell'Ellis a Trivento. L'intelligenza artificiale, nelle sue diverse forme, sta entrando nelle vite quotidiane di tutti noi. Importante è quindi educare i giovani ad un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici a disposizione. Infatti, se l'impiego dell'intelligenza artificiale rappresenta motivo di progresso, soprattutto in campo lavorativo, va ricordato che non può e non deve sostituirsi ai valori umani. L'incontro che abbiamo organizzato per questa sera, il cui relatore, ospite principale, è Luigi Maiello, che è un compositore, musicologo. Questo verteva su un tema importante di cui si parla moltissimo, ma non necessariamente, spesso e volentieri, non nella maniera corretta, perché è un tema estremamente difficile, cioè quello dell'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini, prima di tutto, l'opportunità di parlarne in un punto bellissimo, di un centro storico bellissimo, il Palazzo dell'Ellis. Siamo stati ospiti qui nel cortile, quindi secondo me nel luogo più adatto per fare un incontro di questo tipo. E poi per, dicevo, offrire l'opportunità ai nostri concittadini di riflettere insieme a noi, in maniera critica, su una cosa che ci riguarda tutti, che usiamo o da cui veniamo usati, spesso e volentieri, senza neanche rendercene conto. Quindi la sfida, le sfide che l'intelligenza artificiale pone alla nostra società e al mondo di oggi e di domani. Le tecnologie, hardware o software che siano, sono delle estensioni del corpo e della mente, quindi fanno parte a tutti gli effetti di noi. Il messaggio che bisogna dare è cominciare a chiedersi cosa c'è dentro e cosa c'è dietro, cioè esercitare il pensiero critico, la capacità di riflettere e non credere che quello che ci viene raccontato corrisponda alla realtà. Altrimenti rischiamo di fare, come nel mito della caverna di Platone, che guardiamo le ombre proiettate dalle persone che stanno fuori dalla caverna, invece di guardare le persone. Rischiamo di prendere fischi per fiaschi.